Acquarello e bicchierino per un biglietto troppo carino! Questa è arte per te, arte per te! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te! Come state? Oggi un nuovo video dedicato al Natale. Prepariamo tanti bei biglietti di Natale con la tecnica dell'acquarello. Ma un acquarello facile facile per un biglietto bellissimo. Ve lo prometto! Prima di passare sul piano da lavoro vi ricordo che vi aspetto dal 7 novembre in tutte le librerie con il mio nuovo libro, Il Grande Libro del Colore. Un libro dedicato a tutti, non soltanto agli addetti ai lavori, quindi una lettura piacevole che vi introdurrà e vi spiegherà passo passo tutti gli aspetti del mondo del colore. Vi aspetto numerosi e mi raccomando regalatene tanti di questi a Natale perché questo è un regalo oltre che bello anche molto utile e anche colto, fate anche una bella figura. Se avete già regalato questo vi aspetto anche con il mio primo libro, Il Ricettario dell'Arte. Questo magari dedicatelo più a persone che sapete amano sporcarsi le mani con l'arte, preparare da sé i propri materiali. Qui troveranno tutte le ricette per la creatività. Quindi il Ricettario dell'Arte, ma soprattutto il Neuscito, il Neonato e il Grande Libro del Colore vi aspettano in tutte le librerie ma anche su Amazon e in tutti i link che vi allego qui sotto. Ora basta parlare, se volete riparlare ancora con me ci vediamo subito dopo aver creato i nostri bellissimi bigliettini di Natale. Ed ecco l'occorrente per i nostri bigliettini di Natale. Allora ci occorrerà un foglio di carta d'acquerello, poi degli acquerelli e un pennellino. In più ci occorrerà un bicchierino. Come prima cosa prendiamo un pezzo di cartoncino e pieghiamolo in due. Adesso prendiamo un bicchierino e prendiamo un colore. Io userò il rosso lacca. Sporcando tutto il bordo del mio bicchiere Vado appoggiare e quindi con molta acqua riempio tutto l'interno della pallina Lasciando qualche zona in bianco Vado poi ad intensificare alcune zone Espando sempre mettendo l'acqua Lasciando belle nette invece delle zone su cui andrà il riflesso di luce Quindi prendo un'altra circonferenza E sempre con lo stesso colore Vado a bagnare il fondo del bicchiere Così E appoggiarmi Proprio accanto E anche qui Bagnando ben bene Vado ad allargare La cromigna Farò poi una terza pallina un po' più su Un po' più piccola Adesso con un colore dorato Vado a creare i gancetti E adesso tiriamo su i laccetti Facciamo i fiocchetti E qualche abbellimento Sui laccetti stessi Adesso Utilizzando un colore Brillantinoso Io sto usando sempre questi dorati Ripasso su tutta la pallina Per dare appunto Un po' di luminescenza Non so se li passerò su tutte le palline Passo sicuramente Su questa piccola E poi Casomai Con questo rosa Anzi Questo rosso perlato Ecco Questo potrebbe andare bene Passo magari su quest'altra Per dare appunto Un aspetto più luminoso All'acquerello Mentre l'ultima pallina Questa la lascio assolutamente opaca Quindi spruzzo Un po' di dorato Su tutto Passo il mio acquarello Su uno spazzolino Bagno bene E tocco di magia Un po' ovunque Ripasso con l'acquerello dorato Sui bordi Bagnandoli Leggermente Escurendoli E voilà La card è pronta Per essere regalata Possiamo scrivere Anche qui Un buon Natale E voilà Siamo pronti Per regalare La nostra Piccola card La faccio asciugare Vi lascio alle foto E sbizzarrite La vostra creatività Con l'acquerello facile Ci vediamo subito Dopo le foto Ciao 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 Ora ditemi Se non sono Bellissimi Uno più bello Dell'altro Poi quando comincerete A farli Diventerà tipo Uno tira l'altro Comincerete a Spallettare Pa 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 Un po' Questo è quello Che ho fatto con voi Un po' Da tutte le parti Devo dire che mi son pentita Di aver scritto Buon Natale Infatti dopo l'ho fatto così Senza averlo scritto Uno più bello Dell'altro Uno più vivido Dell'altro Sbizzarritevi Anche con i colori Per me Il Natale È rosso Lo sapete Se mi conoscete Anche solo un po' Quindi sono andata Di rosso Come se non ci fosse Un domani Questi li allegherò Ai miei regali Di Natale Magari Per Natale Potrete allegarli Al grande libro Del colore Guardate come stanno bene Insieme Non pensate Siete andati in libreria A sbirciare Vi è piaciuto Lasciatemi scritto Se avete avuto Già modo Di vederlo Mi raccomando Sono curiosissima Ci ho messo l'anima In questo libro Veramente Anche in quello Ma quello è un libro Più schematico Questo è un libro Più Dove c'è più ombretta C'è solo ombretta Dentro Quindi vorrei tanto sapere Cosa ne pensate Mi raccomando Rendete unico Il vostro Natale Facendo regali Bellissimi E soprattutto Corredandoli Con delle piccole cose Che parlino di voi E della vostra passione Per l'arte Perché il regalo È il tempo Che dedicate Ad una persona E anche creare Un piccolo bigliettino Che possa accompagnare Un pensiero Unico È dedicato A quella persona In particolare Rende un regalo Più speciale Del solito Bene Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Fatemelo capire Con tanti pollici in su Mi raccomando Ve lo ripeterò Un po' troppo spesso In questo periodo Ma è quasi Natale Quindi pensate a me Tre regali di Natale Mettetemi sotto l'albero Bene Grazie a tutti Per essere stati con me Anche oggi Vi mando un grande bacio E vi do appuntamento Sempre qua Per un prossimo video creativo Da Ombretta Ed Arte per te è tutto Alla prossima volta Ciao